Scusatemi, sono un po' stravolto ma abbiamo fatto ore di Consiglio regionale per varare il quesito che consentirà agli italiani di potersi esprimere sull'autonomia differenziata. Non voglio cominciare già la propaganda referendaria, voglio però dirvi che grazie al Consiglio regionale della Puglia e agli altri consigli regionali che hanno votato i medesimi quesiti sarà possibile agli italiani di votare sul DDL Calderoli, non sull'autonomia come concetto ma sul modo in cui il governo Meloni sta declinando l'autonomia differenziata. Questa possibilità la dobbiamo al fatto che cinque consigli regionali hanno richiesto il referendum così come previsto dalla Costituzione della Repubblica. È stata una battaglia perché i consiglieri regionali del centrodestra che pure sono eletti dal sud evidentemente sentono più forte il richiamo delle loro forze politiche dalle quali dipendono di quello con il popolo che li ha eletti. E quindi noi ci auguriamo che, lo dico, che questo referendum abbia tanti sì perché bisogna votare sì per abrogare la legge e che quindi si possa arrivare a trovare un equilibrio migliore tra nord e sud senza pregiudicare gli sforzi che la Puglia, che è la prima regione italiana nella crescita economica negli ultimi anni, sia, assieme alle altre regioni del mezzogiorno, pregiudicata dalla forza che è indiscutibile delle regioni del nord.